L'erogazione dell'acqua a Foggia potrebbe essere garantita ad alternanza tra i quartieri della città. Un'eventualità estrema che potrebbe essere attuata nel momento in cui la pressione dell'acqua garantita dall'intervento di bypass fosse molto debole, tanto da non soddisfare l'intero fabbisogno dei quartieri della città rimasti a secco da ieri sera. L'indicazione emersa al tavolo della prefettura che si è svolto questa mattina con tutti i soggetti interessati all'emergenza idrica di Foggia e che da ieri vive appunto il forte disagio della mancanza d'acqua a causa della rottura di una grossa condotta nei pressi di Via Napoli. Un enorme guasto registrato intorno alle 21 di ieri sera è causato dalla rottura di una delle più grandi condotte della città con ogni probabilità condotte molto datate e logorate. Quindi abbiamo capito il tipo di danno che c'è, bisogna sostituire due tubi e siamo in attesa del reperimento dei pezzi speciali che servono per unire i due tubi al resto della condotta per iniziare a ristabilire il flusso nella rete, ma nel frattempo stiamo realizzando dei bypass che ci permetteranno di alimentare la città di Foggia in maniera alternativa. I tempi tecnici li stiamo valutando e stabilendo, non siamo in grado di dare adesso delle informazioni, però stiamo lavorando alla cremente sia sulla riparazione della grande rottura e sia sulla realizzazione dei bypass. Interventi dunque quelli dei tecnici dell'Acquedotto Pugliese che richiedono molto tempo prima di ripristinare l'erogazione dell'acqua definitivamente. Nel frattempo si provvederà ad un bypass per consentire, seppur in minima parte, l'erogazione di acqua potabile con priorità alle strutture sanitarie e scolastiche e ai centri di primo intervento. Il COC è riunito per valutare le attività di soccorso per la popolazione e i presidi sono stati tutti attivati, li stiamo verificando. Il personale del comune è presente con i vigili urbani presso tutti le autobotti per garantire un ordinato deflusso delle persone. Confidiamo che nelle prossime ore potremo avere qualche notizia positiva. La macchina organizzativa ed emergenziale è al lavoro costantemente. Nel frattempo sono stati predisposti in diversi punti della città autobotti per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile alle famiglie dei quartieri rimasti a secco. Continuano dunque le riunioni e i tavoli tecnici per aggiornare lo stato dei lavori e capire passo dopo passo i tempi reali di ripristino. Disaggia l'ospedale d'Avanzo dove un autobotte da questa mattina garantisce l'acqua potabile. Nessuna difficoltà invece al Policlinico riuniti o almeno per il momento visto che avrebbe ancora delle riserve idriche. Nel pomeriggio un nuovo vertice del COC al comune di Foggia per i dettagli e gli aggiornamenti dello stato dei lavori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.